Qui Llegiamo al palazzo del Puglione in Bernica 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 La terra era una bazzo del Puglione in Bernica e 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 t'aime bien les blancs excellent t'es la première fois que j'en touche un non c'est moi que tu préfères un titi No, c'è il mio, guarda Tu potresti fare la mia moglie La mia moglie ha dentro Ma mia moglie ha tempo Non è un sac che vuest Happy Non è un sac che vuest, non il negro non vuest Le sac chce C'è la banane che vuest, il vuole il sac Il se barre ma.. Te le faccio Il sentico Non, 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 non. Con le braccio. C'era mio cousin. Qu'est ce qu'il y a ? Qu'est ce qu'il y a ? Qu'est ce qu'il y a ? Comme le chien ? Comme le chien. C'est le gif qui l'envoie vers l'arrière. C'est le gif qui l'envoie vers l'arrière. Il n'est pas venu car il y en a faible vidéo. Le chien ne s'attend pas à le faire. Le chien il faut comme ça. Le chien il faut comme ça ? Le chien il éleve sa tête. Le chien il éleve sa tête. Tu fais comment ? Non c'era normale. perciò c'è una buoncina e anche l'obiettore e anche la buoncina grazie si poteva 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 No, non si meti il piattento, perché sono vero, non si meti il piattento. La legion vale. No, proviamo che ci sono una foto, perché ci sono diverse... La pizze? La pizze? Oye, della pizze e del video. Tu le descendants, io cei la pizze o! Ecco è la zona del campire vero. Ca xungriere nelle公 Liverpool via... La общем l'esorescia e la stagione, dove ci sono��, dove, doveva dirlo. Grazie a tutti.